Prosegue l'attività della Guardia di Finanza del Comando Provincia di Cagliari per riportare sotto tassazione ricavi non dichiarati dalle aziende del territorio di competenza. I finanziari hanno individuato una società di Cagliari che opera nel campo della ristorazione che ha omesso di dichiarare al fisco ricavi per 792.000 euro. Le fiamme gialle hanno sottoposto alla società ad una verifica fiscale analizzando il corretto adempimento degli obblighi di legge per quanto riguarda le imposte dirette e l'IRAP. Le controlli eseguite dai finanziari è emerso che nonostante la contabilità aziendale fosse correttamente tenuta. La società ha omesso di presentare la dichiarazione del reddito al fisco. Le poste di bilancio erano compilate e i ricavi annotati ma la dichiarazione del reddito non solo non è stata presentata ma non era stata neanche redatta. La dita pertanto si configura come evasore totale e ha occultato ricavi per oltre 792.000 euro. I militari del Comando Provinciale di Cagliari hanno compiuto anche un controllo a carico di un'altra società di ristorazione che opera nel capologo sardo per verificare la corretta dichiarazione dei canoni percepiti per delle locazioni. Attraverso un controllo incrociato le fiamme gialle hanno scoperto che la società aveva omesso di dichiarare al fisco quanto incassato per una montale di 96.000 euro. Da qui la segnalazione alle autorità fiscali per i provvedimenti dal caso.